Vediamo qua un piccolo modulo RTC. Il modulo RTC permette di fornire alla scheda Arduino, Raspberry o un'altra scheda un modulo real-time clock. In questo caso l'integrato utilizzato è un DS-1302 della Maxime Integrated, in cui in questo piccolo modulo veniamo che è accoppiato ad un piccolo quarzo per fornire il clock e una batteria di backup che permette di mantenere nella memoria interna dell'integrato i dati per una decina d'anni. L'interfaccia verso il processore è formata da una linea seriale tra i contatti clock, data e reset, più due pin dell'alimentazione primaria. Quella della tensione primaria può essere compresa tra i 3,3 e i 5,5 volt, mentre la batteria è da 3,3 volt. Il range di temperatura è dai 0 ai 70 gradi e le dimensioni del modulo sono 44 mm x 23 mm. A questo punto abbiamo collegato il modulo alla scheda Arduino, abbiamo collegato i cavi clock, data, RST, l'alimentazione. In questo caso, per mostrare il risultato, i valori letti dalla memoria interna, abbiamo collegato un piccolo LCD collegato con un'interfaccia I2C. Il programma è già stato caricato all'interno della memoria, per cui è sufficiente fornire l'alimentazione ad Arduino e quando il programma va in esecuzione, a questo punto va a leggere all'interno della memoria le informazioni sul giorno e sull'ora e vengono mostrate sul display. se volete per il programma e per maggiori informazioni, sia sul modulo sia sul collegamento, potete vedere sul sito. Se vi è piaciuto il file, il filmato e le informazioni, mettete un mi piace. Grazie.